Un pacemaker senza fili per la prima volta impiantato alla gruccia. Si tratta di un'operazione innovativa per l'ospedale del Valdarno eseguita su un paziente ricoverato per un'importante alterazione del ritmo cardiaco. Sono pazienti appunto a rischio elevato di avere infezioni o hanno difficoltà nel reperimento degli accessi venosi che sono necessari per gli impianti tradizionali. La peculiarità di questo pacemaker chiamato Micra è quello di non necessitare nessun filo di connessione non richiede incisioni nel torace né la creazione di una tasca sottocutanea. L'intervento viene così condotto con una tecnica mini-invasiva in anestesia locale. È una possibilità in più che offriamo ai nostri pazienti in questo punto siamo molto orgogliosi perché siamo sempre un ospedale periferico quindi con delle possibilità sicuramente inferiori rispetto a quelle che hanno gli ospedali centrali, grossi centri e quindi pur avendo delle carenze legate all'organico, al lavoro ordinario possiamo raggiungere questo tipo di traguardi ci fa molto piacere, ci rende molto orgogliosi. Grazie.